Bella Italia, amate sfonde, pur ti torno a rivedervi. Ragazzi, non vi distraete davanti a questo spettacolo. Tutto quello che vedete è meraviglioso. Anch'io che ritorno in Italia dopo sette anni rimango senza parole, perché l'Italia è il paese più bello del mondo. Lo vedrete da voi. Vi ho portato apposta per farvi vedere. E su, ma che fate? Niente, ma il regolamento, no? Oh, perché? Ma che fai? Si acida, non è niente. Sia buono, non si prego. Perché sia buono? Mi mette un dito in culo, poi dice non si preoccupi. Ma andiamo a fare il regolamento. Ma che regolamento? Ma che credete di trovare una bomba? Anche tu, come gli altri, non vuoi mangiare? No, no, io mangio. La ringrazio. È buono. Diciamo la verità. È buono. Chi è questo di noi, Giuseppe? È uno che è arrivato l'altro giorno. Un agente. Ma che agente agente? È un detenuto. Un detenuto? Ma che avesse preso il carcere per un albergo. Lasciatemi stare, tanto domani me ne vado via. Su, su, sfoglia, ti fammi vedere come sei fatto. No! Aiuto! Ma se è di noi, vuol dire che è nostro, ci possiamo fare quello che facciamo. Superiore. Ma è vero che Severi ha preso quattro anni? Ma che è sta puzza? E non la riconosce? È la minestra. Non cambia il profumo. Come ce la danno, così la restituiamo. Vieni. La mia famiglia non so dove sia finita. E io ho trascinato in cadena con i ladri assassini, senza sapere il perché, senza capire. Non faccia tanti gesti, per favore. La mia famiglia non so dove sia finita. No faccia tanti gesti, per favore. La mia famiglia non so dove sia finita. Grazie a tutti.